Ciao a tutti, siamo Il Volo. È un anno molto speciale per noi perché festeggeremo i nostri dieci anni di carriera con un disco in uscita che si chiama Musica e con la canzone che parteciperà a Sanremo che si chiama Musica che Resta. Questo è un album particolare perché volevamo coronare questi dieci anni di carriera con i nostri tre gusti musicali. Infatti nell'album Musica troverete brani che rispecchiano perfettamente i nostri gusti. Bene, dopo che hanno detto tutto loro, ci vediamo in tour partendo dal Giappone ma ritornando in Italia e poi chiudendo il tour all'Arena di Verona. Ci vediamo presto, sarà un 2019 e un 2020 pieno di impegni e concerti che condivideremo con tutti voi. Il motivo per cui abbiamo deciso di tornare al Festival quest'anno in gara è anche perché è un modo per festeggiare i nostri dieci anni di carriera. Questo è il motivo principale. Poi durante la scelta dei brani abbiamo avuto la fortuna di trovare un brano che in qualche modo ci rappresenta perfettamente. È un passo avanti quello che stiamo facendo perché è più contemporaneo. C'è il tocco dell'arrangiamento e la produzione musicale di Michele Canova e quindi anche come dicevamo con il disco dimostra anche una crescita, un'evoluzione da parte nostra. Come ogni anno, noi ci piace tanto cantare, quindi facciamo tanti concerti e ce lo permettono fortunatamente le persone che ci seguono. Quest'anno, essendo l'anno dei festeggiamenti di dieci anni di carriera, non potevamo non fare tanti tour. Ci sarà un tour giapponese a maggio, un tour italiano giugno-luglio che terminerà a settembre con un concerto all'Arena di Verona, seguirà un tour Nord America, Sud America ed Europa. Quest'anno ci teniamo a dire che faremo due concerti a Matera, come tutti sanno Matera è la città, capitale europea della cultura. Faremo questi due concerti tra cui uno verrà registrato e ripreso da un emittente americano che sarà emesso in tutti gli stati americani e coprirà il 98% del territorio. Quindi quest'anno porteremo anche, per la seconda volta, perché è il secondo che facciamo in Italia, Matera in America. Tra l'altro sarà sopportato dai beni culturali. Sarà sopportato dai beni culturali. Sì, sicuramente adesso, l'esperienza che abbiamo fatto adesso a Panama cantando per la GMG, per il Papa, è stato sicuramente uno scenario, più che palcoscenico, è alquanto unico e che ricorderemo per tutta la vita. Ma perché è stata un'esperienza di vita, un'esperienza spirituale. È sempre stato il nostro desiderio, fin quando siamo nati come gruppo, di poter dare la nostra arte a Dio, innanzi al Papa. Dopo dieci anni siamo riusciti a coronare questo desiderio. In più facendolo davanti a migliaia e migliaia e migliaia di giovani. Sì, abbiamo sicuramente gusti diversi, anche se poi la scelta dei brani l'abbiamo fatta insieme. I miei brani preferiti sono sicuramente l'inedito vicinissimo, che è un po' una sorpresa per noi, ma anche per molta gente, che non si aspetta magari che possiamo anche cantare in quel modo. E poi anche c'è Lontano dagli occhi di Sergio Indrigo, è molto bella. E poi Arrivederci Roma, che è un grande classico italiano, cantato anche da Dean Martin in inglese. Quindi c'è anche un po' di bublè dentro, ecco. I miei brani preferiti sono Vicinissimo, Musica che resta, Be My Love e Meravigliosa Creatura. Bene. Io ascolto un po' tutti i brani e a chi mi dice l'ascolto frequentemente, ma soprattutto anche è vicinissimo, musica che resta è normale, ormai la sentiamo da mesi e mesi. C'è anche la voce del silenzio, ma c'è anche l'altro inedito, Fino a quando fa bene, che è molto... Ecco, chi l'ascolta può dire il volo come non l'ha mai sentito. Ed è molto bella, secondo me, a mio avviso. Sì, c'è un aneddoto molto divertente su un artista che ho incontrato, che è Piero Barone, non so se lo conoscete. Che davanti a mezzo milione di giovani e davanti al Papa ha cantato, è in Mondovisione, ha cantato con le sneakers sotto il vestito. Sì, perché spieghiamolo. Mi hanno perso il bagaglio, siamo andati a Panama per un giorno. Tutti i negozi erano chiusi e sono riuscito a comprare un vestito, ma non c'erano le scarpe. L'ho dovuto cantare con le sneakers con cui ho viaggiato. In effetti il regista gli ha tagliato le gambe completamente. Se voi andate a vedere anche nelle foto pubblicate dai nostri social, sono tagliate le gambe di Piero. Ma la cosa più stupida è stata portare il bagaglio grande per due giorni. Vabbè, non fa niente, dai, abbiamo risolto. Comunque è stile, secondo me. Sì, stile. Ci teniamo a fare tanti progetti, ma soprattutto progetti che ci facciano crescere personalmente. Quest'anno abbiamo deciso di fare per Natale un grande... Vabbè, l'anno scorso è stato Natale. Fare un regalo a degli eroi, ovvero i militari italiani che vivono e stanno lì per sei mesi in questa missione di pace in Libano. Ovvero loro cercano di mantenere la calma tra Libano e Israele. Queste persone sono davvero degli eroi perché non vedono le proprie famiglie per sei mesi, i propri figli, i propri cari. E andando lì a cantare i nostri classici italiani, il nostro repertorio, credo, speriamo, di averli fatti sentire a casa. Beh, pensa che è partito tutto come fare un regalo a loro e alla fine loro ce l'hanno fatta a noi. Ci siamo fatti un regalo a noi ad andare lì perché è stata un'esperienza... Unica. Unica. Ci salutiamo tutto il contingente italiano in Libano. Leonte, giusto? Sì, Brigata Garibaldi. Brigata Garibaldi, un saluto a tutti voi, vi vogliamo bene, ci vediamo presto.